La comunicazione di genere è indispensabile per educare al rispetto e alla valorizzazione delle differenze e partendo dal linguaggio si possono ottenere importanti cambiamenti culturali. Lo ha detto la Presidente della Commissione regionale Pari Opportunità Angela Blasi nel presentare workshop Che genere di linguaggio, organizzato dall'organismo istituzionale in collaborazione con il Comitato Unico di Garanzia dell'Università della Basilicata. Due momenti dell'iniziativa, il confronto in mattinata con gli studenti del liceo scientifico di Policoro e il dibattito pomeridiano a Scanzano Ionico sull'uso del linguaggio nella stampa e nei social, nella pubblicità e nella comunicazione pubblica. Diverse le riflessioni che hanno puntato l'accento sulla necessità di un cambiamento di mentalità e sul superamento degli stereotipi di genere. Per Patrizia Del Poente, docente di glottologia e linguistica dell'Unibas, Dobbiamo imparare a riclassificare la nostra realtà e provare a creare dei mutamenti. Se cambia qualcosa nella lingua, cambia anche la nostra mentalità e il mondo sarà più paritario. Un messaggio questo lanciato agli studenti presenti in sala. Voi, ha detto la Presidente della Commissione regionale Pari Opportunità, rappresentate il presente e il futuro. E se riuscirete a superare la difficoltà di riconoscere un linguaggio di genere, sicuramente potrete superarne gli stereotipi. Grazie. 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 Grazie.